Come si creano i testi per il web? Bisogna per prima cosa, quando tu lanci un nuovo progetto, mettiamo che ognuno di voi ha un tema in mente, possibilmente una propria passione, uno ha il braccialetto brasiliano che proprio lo appassiona, un altro ha la famosa Ragosta Verde, un altro ha il cinema d'autore, ognuno ha il suo tema. Hai fatto quei tre passaggi che ti ho detto prima, cioè sei andato su quei tre servizi, hai visto, hai detto, mazza, questo, sì, concorrenza ce l'ha, ma non tantissima, mazza, tanta richiesta, anche il volume di inserzionisti, concorrenza tra inserzionisti, quindi è un buon progetto. Partiamo, come scrivo i contenuti? La prima cosa, siediti là tranquilla e metti giù una lista dei competitor, cioè quelli che fanno la tua stessa cosa. Vai là fuori su Google, cerca e troverai dei siti che fanno più o meno la stessa cosa, la fanno sicuramente peggio di te, però la fanno. Guarda i competitor che ci sono, fai una lista e non fai una lista solo dei loro nomi o dei loro indirizzi, mettici il nome, l'indirizzo. Se ha o non ha una pagina Facebook e il numero dei fan che ha su Facebook, se ha o non ha una newsletter, aggiungi delle note, la cosa più bella che trovi su quel sito e la cosa più brutta che trovi su quel sito. In questo modo puoi tarare il tuo progetto anche in relazione agli altri, quello che diceva, chi è che mi diceva sottovaluti la qualità? Tu. Qua puoi vedere laddove agli altri manca la qualità, tu puoi mettercela. Una ragazza che proveniva da un corso di magica, che poi ha fatto uno stage con noi, ha avviato un progetto, è un'amica, ecco lei è una sua amica, ha avviato un progetto interessantissimo. Lei aveva la passione dei dolci, ha avviato un progetto sui dolci e ha fatto proprio un lavoro certosino nello studiare tutto quello che mancava agli altri siti e tutto quello di figo. Per cui vedeva, cavolo questo ha le foto belle, però non si capisce la ricetta. Ok, allora foto belle, le voglio poi le foto belle. Questo ha caratteristica per caratteristica se le è appuntate, questo ti può essere molto d'aiuto nel creare i tuoi contenuti. Quindi prima di tutto guarda i competitor, che cosa fanno e impara o disimpara da loro. Focalizza il target creando delle persone. Che sono le persone? Nel campo del marketing si utilizza questo termine per creare un esempio di consumatore, evidenziandone alcune caratteristiche. Il concetto di target è chiaro a tutti, c'è qualcuno che non sa che cosa vuol dire target? Ok, il target quindi è il mio obiettivo, in questo caso sono i miei lettori. Allora dico, il target del mio sito di ricette non sono quelli che leggono il gambero rosso, che vanno a mangiare solo nei ristoranti. Sono quelli un po' rozzi, che gli piace la tavaglia a quadrettoni e il fiaschetto di vino. Per esempio, avete mai visto il sito zingarate.it? Cioè zingarate.it è un sito di viaggi, ma che tipo di viaggi? Con un target particolare. Quindi, focalizza il target. Per focalizzarla ancora meglio, creati dei personaggi, tipo il mio lettore ideale è Marco. Marco ha 19 anni, è stato bocciato una volta per cui finisce la falla maturità a 19 anni e per il suo oggi di maturità vuole fare l'Interrail. Marco gli piace il calcio, non è fidanzato, farà l'Interrail con cinque suoi amici. Ce l'ho ben presente e penso, ma per Marco quale contenuto potrei creare? Allora, appare evidente che, per esempio, scrivere un articolo sui musei a Praga, se Marco vuole andare a Praga con l'Interrail, non andrà proprio a guardare i musei. È stato bocciato, insomma è un po' uno che non gli frega tanto della scuola, si vuole divertire, non è fidanzato. Che cosa parlo? Parliamo dei locali per spogliare l'Ista a Praga. Ho detto una stupidaggine, però per far capire come sulla stessa città, lo stesso argomento, però focalizzando delle persone tipo, puoi avere in mente chi è il tuo lettore. Noi, una che mi ha insegnato tantissime cose su questo argomento è Flavia, perché attraverso Facebook c'erano delle persone che contribuivano spesso e hanno costituito per noi i tipi di riferimento. C'è la famosa Gabriella Manola Ursino, che è una ragazza siciliana, studentessa, che non si sa com'è tutta la sua giornata la passava a cucinare e quindi rispondeva come una pazza a tutti quanti. Quindi quella è stata per noi un tipo, perché ci sono le persone che sono maniache che fanno quella cosa. E anche là abbiamo detto, ma noi vogliamo rivolgerci a quello maniacale o a quello che lo fa a tempo peso? Cioè qua tu puoi tarare bene la tua comunicazione. Quando devi creare dei contenuti, ti consiglio di crearti dei modelli. Quindi dicevamo, il ragazzo che va a vedere il sito Zingarate, io che scrivo le pagine di Zingarate, mi creo un modello è la vacanza tipo. Quindi una guida che non è specifica, cioè dove parlo delle cose che puoi fare in un posto. Un altro modello è la review dell'ostello. Quindi la vacanza tipo sarà un racconto, dove poi gli metto magari dei consigli pratici alla fine, quindi gli racconto una storia di una persona che ha fatto l'interrail, ha girato questi paesi, è andato a visualizzare belli ostelli e poi alla fine gli metto tutti gli ostelli dove si può vivere lo stesso tipo di vacanza. Quello è un modello di contenuto. Un altro modello di contenuto è la review dell'ostello, con il titolo dell'ostello, il servizio offerto all'ostello e il costo dell'ostello. Sono sempre due articoli che io pubblico, ma sono due modelli diversi. Pensate, definendo bene questi modelli, come è più facile scrivere un articolo semplicemente riempendo uno scatola che io ho creato, riempendo una struttura. Piuttosto che ogni volta mettersi là, su una pagina vuota, allora come inizio? Invece creando dei modelli riesci molto meglio a sviluppare una produzione più veloce. Sostanzialmente rispondi a delle domande, più che inventarti cose da zero. Grazie a tutti.